Mario Papadia, siamo arrivati alla 27esima edizione di questa Kermesse dedicata alla mela. Sì, abbiamo iniziato nell'89, questa è la 27esima edizione, due sono saltati, uno per alluvione e uno per altri motivi e adesso speriamo che questa vada bene. La varietà della mela per Quasolo è un elemento importante per l'economia di questo paese? Inoltre il paese delle mele, questa era piena di mela, adesso c'è un po' di meno perché non più tutti lavorano per la mela, però noi portiamo avanti la tradizione. Quante varietà di mela esistono qui a Quasolo? Più di una cinguantina, però io non saprei che tipi. Elisa Bellezza, direttore della banda musicale di Quasolo. L'importanza delle bande musicali per i territori montani? La banda è un elemento sempre presente sul territorio, a Quasolo ma anche nel resto delle valli di Lanzo e credo che oggi, visto che c'è anche un'ampia fetta di cultura che partecipa a questo avvenimento, anche la banda musicale debba assolutamente essere presente come tutti gli anni, soprattutto per l'apertura della giornata e l'investitura ufficiale della Pumatera che sono le maschere tipiche del nostro paese. Tu oltre ad avere la banda di Quasolo dirigi altre bande della zona. Qual è la difficoltà nel reperire comunque nuovi musici tutti i momenti? La difficoltà oggi come oggi è il fatto che ci sia poca predisposizione all'impegno perché ci sono tante 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 attività, una volta c'erano poche cose nel paese quindi tutti si dedicavano alla musica, adesso invece il territorio offre una vasta alternativa di sport, di intrattenimento e quindi c'è più offerta formativa e quindi meno possibilità di dedicarsi soltanto alla musica. Mario Papadia, l'edizione odierna come si svolge? Stamattina ci sono le bancarelle che si preparano, poi nel pomeriggio alle due e mezza c'è le investiture delle maschere, poi c'è le sfilate della nostra banda musicale, più c'è i bersaglieri, poi ci sono l'esibizione dei cani, poi i vigili del fuoco che fanno il gioco con i bimbi e poi così bancarelle, si girano le bancarelle, basta. Un'edizione sicuramente alla portata di tutti? Sì, speriamo solo che vada bene, che il tempo si mantenga. Benvenuti a Quassolo Torinese, il paese delle mele, qui oggi c'è la Sagra della Mela che è una festa tradizionale che da pochi anni è ritornata alla ribalta grazie a un gruppo di persone che hanno cercato di recuperare delle varietà antiche sia attraverso degli innesti su dei nuovi porti innesto sia attraverso il recupero di mele secolari che erano in stato d'abbandono. Adesso noi qua abbiamo una piccola esposizione delle mele che siamo riusciti a recuperare, sono tutte varietà antiche, coltivate in un modo completamente naturale che non contempla l'uso né di pesticidi né di prodotti chimici e neanche biologici, quindi sono delle mele che sono allo stato naturale. Quindi tutti i principi attivi e i nutrimenti sono completamente naturali, molto digeribili, completamente sani. Qui stiamo allestendo il banchetto per far vedere le varietà di mele che abbiamo antiche perché sono centinaia, però noi siamo riusciti a recuperarne per adesso una ventina, la diciamo, però in realtà erano tantissime. Questa qui che abbiamo qui è una composta, praticamente una volta si potevano conservare le mele mettendo la molla nell'acqua per tutto un anno intiero, diciamo, è una cosa un po' strana, però funziona, noi abbiamo anche le prove lì che le abbiamo fatte. Allora, le varietà antiche più famose sono queste qua, la Contessa, i Curunei, il Rysnant Brusch, Rysnant Dusch, la Pungola, Turinette, Bujing, Bujing è famosissimo, diciamo, è conosciuto un po' dappertutto, il Bujing, il Senatore, il Miklai, Torigadin e i Vardoni.